Ciao a tutti amici di AndroidBlock.it oggi dopo un violento acquazione proviamo la fotocamera dello Zopo ZP1000 una fotocamera da 14 megapixel che come vedete registra video in Full HD proviamo una solita inquadratura e anche una messa a fuoco come vedete è molto veloce ed è possibile farla anche in modo manuale proviamo un controluce anche se ce n'è poca e una zoom digitale fino a 4x dove la qualità delle immagini perde decisamente ma comunque resta accettabile torniamo indietro proviamo anche un pan veloce e vi ricordo video registrato in Full HD da Zopo ZP1000